Come dicevo la comunicazione aumentativa alternativa è tutto, possono essere anche disegni. Mi stavate chiedendo dove recuperare i disegni, c'è Arasac, Araword, i programmi Damian d'Auxilia perché poi quelli a pagamento ma per un mese ve lo danno gratis, vi trovate in una situazione imprevedibile come una gomma che scoppia, che si rompe insomma, che si sgonfia e dovete dire a vostro figlio di aspettare perché dovete aspettare che arrivi i carattrezzi. Allora, uno, oh no, la macchina si è fermata, ci siamo fermati perché una gomma si è rotta. Due, dobbiamo aspettare che arrivi, aiuto! Ok, tre, arriva il carattrezzi. Ok, ragazzi, io ho poco tempo qua con TikTok, è un disastro questo disegno, però mi avete capito, perché cosa deve fare il carattrezzi? Deve cambiare la gomma, quella rotta e con quella nuova. Ecco, questo dovete far vedere ai vostri figli, capito? Quello che succederà. è meglio. Grazie a tutti.